gentili telespettatori buona giornata anche oggi parliamo di ellish line perché ogni giorno ci delizia con le sue uscite chiamiamole così della serie ne ha detta un'altra fantastico che figuraccia sul quotidiano la repubblica perché perché lei parla a caso dice quello che gli passa per la testa da fa delle valutazioni illogiche senza senso dice anche frasi volutamente senza senso si parla del salario minimo e dice uniti sul salario minimo ma non è così non sono uniti perché ad esempio matteo renzi ha detto assolutamente di no renzi con il suo partito italia viva si è rifiutato di firmare un documento unitario del centro sinistra quindi o la segretaria capa del pd prende in giro il suo elettorato parlando di unità dell'opposizione documento unitario o prende in giro l'elettorato o proprio non ci siamo diciamo così non ci siamo io non saprei se prende in giro l'elettorato o non c'è davvero non saprei da quale parte pende la 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 verità sta di fatto che in realtà prende veramente in giro l'elettorato perché il risultato è quello dice sul salario minimo uniti con un documento unitario invece matteo renzi e italia viva si sono rifiutati di firmarlo perché renzi si rifiuta di firmare il documento sul salario minimo certo che renzi è d'accordo sul salario minimo ovvio renzi è una persona intelligente perché perché invece non lo firma perché lui fa il berlusconi non so se non so se avete capito lui sta puntando visto che negli ultimi sondaggi italia viva in qualche caso si è vista oltre azione al 4,3 per cento sembrerebbe che qualche elettore di forza italia stia passando con lui lui che è sempre stato il figlio politico di berlusconi berlusconi piaceva renzi anche renzi piaceva berlusconi politicamente parlando ovviamente ci mancherebbe altro e poi ovviamente lui che vuole raccogliere l'eredità di berlusconi e i suoi elettori berlusconi era contro il salario minimo l'imprenditore di base contro il salario minimo no perché col salario minimo vorrebbe dire prendere centinaia di dipendenti alzargli lo stipendio per legge e quindi avere un'entrata economica non un'entrata economica avere un utile netto un guadagno inferiore perché se aumenti i costi del personale diminuisci il tuo guadagno quindi un imprenditore sarà sempre contro il salario minimo a meno che i suoi dipendenti abbiano tutti i stipendi di un certo tipo e non ci sia nessuno con stipendio basico allora quell'imprenditore può essere anche d'accordo perché a lui non non comporta nessun nessuno svantaggio economico quindi avete capito perché renzi non è contro il salario minimo perché lui fa il berlusconi tu vuoi fare l'americano no lui non vuoi fare l'americano ma lui vuoi fare il berlusconi va bene e così ellis line alla repubblica racconta la solita frotto la giornaliera beh non è l'unico politico che racconta balle attenzione i politici perché raccontano balle perché hanno capito che il livello medio dell'elettorato di qualunque partito è proprio medio è proprio medio basso al a gran parte dell'elettorato che spesso è tifoso del partito e il tifoso del partito come il tifoso di una squadra di calcio non è che sta troppo lì a ragionare tifa tifa e basta se gli parli male del partito gli dimostri qualcosa non ti ascolta nemmeno ti dice anzi che sei un avversario che di qua di là e di su e di giù c'è il tifoso ma c'è anche l'elettore che non capisce c'è anche l'elettore che non ci arriva o l'elettore che è poco informato uno entra al bar guarda il titolo sul giornale di repubblica e vede tutti uniti per il salario minimo e vai ed esce dal bar prende la macchina e accende la musica ecco il grande stuolo di elettori medi tra quelli che non capiscono quelli che sono tifosi quelli che sono distratti perché non approfondiscono i temi lash line e tanti altri politici sanno perfettamente che l'apertura conti una palla e e sono pochi quelli come voi che si informano su un canale di politica che vanno ad ascoltare che approfondiscono i temi sono pochi quelli che oggi sanno che non è vero che c'è un documento unico sul salario minimo c'è un documento firmato da alcuni partiti di sinistra ma non tutti di opposizione ma non tutti ecco questa è la bufala giornaliera della lash line il documento uniti documento unitario di tutta l'opposizione ma non è vero bene poi ce ne sono altre della della lash line però non faccio a tempo a raccontarvele a parte che io vi dico in verità in verità vi dico che io sono assolutamente d'accordo sul salario minimo assolutamente d'accordo sul salario minimo perché è civiltà civiltà progresso è giusto prima o poi ci arriveremo ovviamente non si sfugge o il salario minimo o i sindacati insieme alle aziende si mettano d'accordo per alzare gli stipendi ma le aziende non potranno da soli fare carachiri e alzare gli stipendi perché ne va la diminuzione del guadagno per i proprietari di queste aziende quindi le aziende non potranno mai essere d'accordo quindi se le aziende non lo faranno mai da sole e i sindacati non ce la fanno a portare la contrattazione nazionale a un livello minimo l'unica cosa che può succedere è solo il governo che lo fa il salario minimo lo impone per legge perché gli sindacati con tutte le categorie di aziende dovrebbero mettersi d'accordo allora meno di 1800 primi livelli di ingresso meno di 1800 non si può il sindacato dovrebbe farlo facendo uno sciopero generale bloccare il paese fino a quando le aziende immediatamente non alzino gli stipendi ad almeno 1800 euro lordi aziende il bar il ristorante nel commercio tutti almeno 1800 euro lordi il livello il più basso può succedere questo no per questo quello deve fare il governo non ci si scappa arrivederci a tutti e grazie